E benvenuti su Radio Norma Battiti Live da Bianca, la vostra speaker preferita! Ed Alan, il tuo direttore preferito! Inizio io, dandovi la carica giusta! It's funky time con Cake by the Ocean di NCE! Dai seguitemi, voglio vedervi volare! Oh no, we're just getting started, don't you tiptoe, tiptoe, ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece, ah, put your moves so carefully, let's start living dangerously, talk to me baby, I'm rolling up in this sweet sweet baby, ah, but sometimes I'm about to go fucking crazy, ah, yeah, 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 yeah. Con Alan Palmieri e Bianca Guacero nel cuore della musica e nel cuore dell'Europa, dai migliori festival trends EDM c'è Faded, Alan Walker! Benvenuti nel cuore della musica, perché è sicuramente una delle canzoni più hot dell'estate 2016! A Radio Norma, batti di live, Alvaro Soler con Sofia! Sofia, mira Bari! Mira Sofia! Mira Bari quanto è bella Bianca! Quanto è brava Bianca! Oggi possiamo dire che hai la radio nel sangue! Sofia, grazie! Grazie, grazie a te Alan e grazie a voi perché mi sto divertendo un sacco! Eccoci qua! Mi hai fatto ballare stasera! Spero che non abbiano visto delle cose improponibili perché non so muovermi, sono un legno! Mi ce l'ho fatta e vai! Hashtag Balla Alan! Scherzi è parte! Continuiamo a spingere questo hashtag Battiti Live così andiamo al numero uno in classifica! Allora, guarda, guarda, abbiamo lì il nostro muro social! Vediamo cosa ci scrivono i nostri amici! Allora, bello e bravo Lorenzo Fragola! È vero, è vero! È stato veramente bravo! Un momento molto emozionante il suo! Siete sempre il top! Hashtag Battiti Live! Grazie, grazie mille! Lì ci sono le vostre foto di Instagram! Siete bravissimi e bellissimi Alan! Hai sentito? SMS! Siete bravissimi e bellissimi! Non so a chi si riferisse però, vabbè, la prendiamo per buono! Si riferiranno agli artisti, sicuramente si riferiranno agli artisti! Va bene! Sento qualcosa dal pubblico, ma... Ma... No, ragazzi, no! È che mi scatta qualcosa! Mi sale il valore, mi sale! Allora, no, no! Non... lo diciamo? Lo diciamo? Non c'è più! Dai, però vi vogliamo ben i carichi, eh! Ci siete? Sì! Sta per arrivare! Andiamo? Andiamo? Dove? Accomandare? Sì! Fabio Rovazzi! Andiamo già sbagliando tutto quanto qua. Nella tangenza... Andiamo! Andiamo! Sporcio, god, man! Buonasera Bari e buonasera Radio Norma Volevo informarvi che tra tutti i valori Mi è salito l'andare a comandare Fate un cazzo di urlo per Fabio Rovazzi Non so se sono pazzo O sono un genio Faccio i selfie mossi Alla web regno Non mi fumo cane Sono anche un segno Io non faccio brutto ma Contratore intergenziale Andiamo a comandare Salto foto col mio cane Andiamo a comandare I ciabatte nel locale Andiamo a comandare Faccio acqua minerale Andiamo a comandare Andiamo a comandare Ho un problema nella testa Funziona a metà Ogni tanto parte un suono che fa E ho la testa che gira Come il kebab Sento la musica dentro il tuo club Rovazzi Ma che cazzo fai Non so se sono pazzo O sono un genio Faccio i selfie mossi Alla web Perché io non mi fumo cane Sono anche un segno Io non faccio brutto ma Contratore intergenziale Andiamo a comandare Salto foto col mio cane Andiamo a comandare I ciabatte nel locale Andiamo a comandare Sfocio acqua minerale Tutti Andiamo a comandare Andiamo a comandare Andiamo a comandare Andiamo a comandare Fatti vedere dal nostro pubblico Andiamo a comandare Che bello raga Eccolo qua In questi giorni tutti Allora Io ho fatto una piccola ricerca Sì Grazie raga Cioè c'è tutta l'Italia Che sta cercando di decifrarti Di leggerti Un sacco di giornalisti Scrivono qualsiasi cosa Cercano di affibbiarti Un mestiere Un'etichetta Ma tu sei Fabio Rovazzi Giusto? Esatto Olè Un fenomeno tra l'altro Da più Ascoltate bene Perché sono più Di 40 milioni Di visualizzazioni Su Youtube Grazie raga E' un fenomeno vero Da studio proprio Infatti è stato il primo italiano A vincere il disco d'oro Solo con gli streaming Cioè con gli streaming Senza vendere copie Eccetera Soltanto con gli streaming E tu lo sai fare Il movimento della sua canzone? No facciamolo insieme Dai Ma io sono un legno Un legno Allora però anche voi Tutti, tutti, tutti Vai Raga il mio tre Uno Due Tre Vai Grandi Fabio Rovazzi Ciao Fabio Grazie Ma adesso Ma sai che cosa Non vorremmo mica congedare così Il nostro pubblico Vero? Voi siete ancora carichi Vero? Ah perché no? Eh? Non finisce qua Perché adesso succede qualcosa Di veramente forte Ma io Sai che cos'è? È che mi hanno passato una foto Poco fa sul cellulare No? Che è successo? È una foto nostra Io vorrei Postarla Ma non ce la faccio Guarda io certe volte Ho da dire talmente tante cose Su Facebook No? Poi mi dico Vorrei ma Non puoi? Non posto Oh Vorrei ma non posso Non posto Facciamolo dire a loro chi sono Dai Perfetto Chi sono questi due cantanti? E poi? FedEx e J-AX con Vorrei ma non Al battiti live Io vi chiedo pardon Ma non seguo il bon ton E che a cena devo avere sempre in mano Un iPhone Il cane di Chiara Ferragni È un capion di Buiton Ed un collare con più glitter Di una giacca di Etton John Salvini sul suo blog Ha scritto un post Dice che se il macchino Allora in bocca Si tratta di un rom Sono malato del risparmio Per questo faccio Un po' di terapia Di gruppo Poi lo sai Non c'è Un senso A questo tempo Che non ha Il giusto peso Quello che viviamo Ogni ricordo È più importante Condividerlo E viverlo Vorrei ma non posso E ancora un'altra estate Arriverà E compriamo Un altro esame L'università Se fa un tuffo nel mare Nazionale popolare La voglia di cantare Tanto non ci passerà Su le mani E infatti si fa gara E infatti si fa gara A chi ce l'ha più grosso Il salento Miela ti ha detto Nel 98 E 18 Di coppia d'agosto Mentre guardi quei selfie Che ti manda di nascosto Pensi purtroppo Potrei ma non posso E se è lenta Stai con virus Basta prendersi di moto Tutto questo navigare Senza trovare un posto Tutto questo spattimento Per farlo E poi sullo schermo piatto Non vedi quanto è profondo Poi lo sai Non c'è Un senso Questo tempo Che Non dà Il giusto peso Quello che viviamo Ogni ricordo È più importante Condividerlo E viverlo Tutti Vorrei Ma non posso E ancora un'altra estate Arriverà E comperemo Nostra esame All'università E fa un tuffo nel mare Nazional popolare La voglia di cantare Tanto non ci passerà Che bella Sarebani Facciamola da voi bene Questa Arriva il momento Poi bene Così Fiede Quando il termometro va rosso E caggiosa Ti togli i vestiti Di dosso Sembra che sta Poi mangi il tuo gelato E fai le facce porno Tu non sai Quanto soffro Vorrei Ma non posso E ancora un'altra estate Arriverà E comperemo Un altro esame All'università E fa un tuffo nel mare Nazional popolare La voglia di cantare Tanto non ci passerà Su le mani Grazie Wow C'ho i brividi sulle gambe Zio Che bomba C'ho i brividi sulle gambe Mi tolgo i pantaloni Se non c'è Ce l'abbiamo noi I brividi Sì Ma un colto è il brivido Sul braccio Ma questa gente Va a tenere il brivido Sulla gamba Siete un terremoto Fedez J-AX Al Battiti Live Nel cuore della musica Posso rubarvi due minuti Possiamo fare una foto Ricordo Con questa bellissima piazza Certo Assolutamente Vieni Vieni Luca Anche Fabio Vieni Roazzi Vi asciughiamo un attimo Scusate Colpa mia Fra tutti e tre Sono io più bimbo minca Scusate Qui Qui prendi tutti Vai Eccola qua la foto J-AX Fedez E Roazzi E Bari E tutta Bari Nel Battiti Live Il corso della musica Grazie a tutti Ciao Grazie Nel mio cuore Ragazzi Quanta energia Incredibile Sarete fuori con il disco Prestissimo Cioè prestissimo Febraio Abbiamo trovato Ah Posso dire una cosa Cioè abbiamo scritto quasi tutto il disco Diciamo il 90% Sì Però non riuscivamo a trovare il titolo Ah E l'abbiamo trovato oggi A Bari Caspita Quindi il titolo del nostro disco E' nato a Bari E non si può dire ancora E no E no Mi spoilerò così Una parola Mi spoilerò il finale Una parola No no Assolutamente niente Poi Fedez mi ammazzano Neanche qua No 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 Va bene Sono rimasto da solo qua sul palco L'abbiamo capito Scusami Oh perfetto No proviamo a farvi un'intervista Un minimo di intervista No E c'è andato Tra l'altro Il vostro video E' entrato nella classifica Dei 100 video più visti in assoluto In tutto il mondo Giusto? E' il motivo per la quale L'Inghilterra è uscita dall'Europa Probabilmente La Brexit La dobbiamo a questo Ecco Finalmente l'abbiamo scoperto In piena estate Quando queste cose Non fanno notizia Sì è vero Vorrei solo dire che è vero Conta la musica Conta la musica e basta Va bene Grazie mille Noi vi ringraziamo Per essere stati qui con noi Grazie Noi ringraziamo voi Ringraziamo Norma Ma soprattutto Ringraziamo loro Perché quest'anno ci stanno regalando Una cosa veramente inaspettata Ragazzi Domani faremo un post Dedicato a quelli come voi E vorremmo E lo postiamo Vai Fedez e J-Ax Grazie mille Mi raccomando Continuate a seguirci Seguirete la replica Di questo appuntamento Su Tele 2 Mercoledì alle 20.30 Mentre su Radio Norma TV Venerdì prossimo Alle 19 Mi raccomando Puntualissimi Tra l'altro Una cosa importante Volevamo dire Siamo stati a rischio pioggia E volevamo ringraziare Tutti i tecnici Tutta la produzione Tutta l'organizzazione Le forze dell'ordine Tutti Anche tutti voi Per averci permesso Di lavorare E di essere qui Con questa professionalità Anche se stamattina Il palco era ancora Semismontato E anche un po' di fortuna Devo dire Quella non basta mai Grazie Bari Grazie per il calore Che ci avete regalato stasera Siete fantastici Unici Emozioni per noi Indimenticabili E vi aspettiamo Alla prossima tappa Di Battiti Live Dove Alan? La prossima tappa Di Battiti Live È a Matera Nel cuore della musica Sempre Ciao Grazie mille Battiti Live È stato presentato da Segui il richiamo della notte Peroni forte La notte ha un altro gusto Ironici Lemon L'onda di birra e limone Ricola Ricola Caramelle svizzere Alle 13 erbe Non mordere Lo stecco con copertura cremosa Che non vuole regole Da San Montana Vai Oltre il risparmio Linea carta casa Wow L'anticrisi sconvolgente Amgas Energia La convenienza Di un unico fornitore Di luce e gas www.amgasbari-srl.it Balcan, Balcan, Balcan Balcan Express La vacanza Va presa al volo www.balcanexpress.it Conad Persone oltre le cose www.amgasbari-srl.it